Dopo il banchetto sta per arrivare il conto. Non risulterà infatti impunito il picnic con circa 120 persone che domenica pomeriggio hanno allegramente pasteggiato sopra la fontana di Piazza del Popolo in un flash mob di protesta che ha radunato, attraverso un tam tam sui social, decine di persone riluttanti ai limiti imposti dal Green Pass. Un aperitivo immortalato da queste immagini postate sulla pagina Facebook del movimento Io Apro. Una manifestazione provocatoria. Senza Green Pass non ci si può sedere al bar o al ristorante e allora l'incontro conviviale lo si porta all'aperto e nel cuore della città con tanto di bivacco sulla fontana cittadina. Questo è quello che hanno pensato di fare i manifestanti ma l'ha pensata diversamente la Digos che seppur costretta a dirottare il proprio presidio domenicale sulle concomitanti partite di vispeso Revuel al momento di sparicchiare la festa è comunque riuscita a identificare parte dei partecipanti e attraverso la videosorveglianza sta perfezionando anche le individuazioni che porteranno a 80 denunce. Nomi che saranno inviati alla procura della Repubblica per manifestazione vietata. Un reato che prevede multe fino a 400 euro così come sono in arrivo sanzioni per assembramento e mancato uso di mascherine per quella che si sta per rivelare una festa dal conto salatissimo.